Un sopralluogo allo stadio Pergolo di Martina Franca in vista del Consiglio Comunale. Il sindaco Gianfranco Palmisano, l'assessore lavori pubblici Nunzia Convertini e allo sport Vincenzo Angelini, alcuni componenti della Commissione Lavori Pubblici e altri consiglieri comunali di maggioranza e opposizione assieme al consigliere regionale Renato Perrini hanno effettuato un sopralluogo proprio allo stadio Pergolo. Si sono incontrati per fare il punto della situazione sulle progettazioni e sui lavori attualmente in corso in vista della seduta del Consiglio Comunale che vede fra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del progetto esecutivo con l'adozione della variante urbanistica semplificata dell'intervento di rigenerazione urbana dell'area Pergolo e di adeguamento e completamento dell'impianto sportivo da destinare all'attività agonistica nazionale. Si tratta di uno dei progetti del Comune di Martina Franca finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo di 2 milioni e 750 mila euro. Il definitivo completamento dei lavori dello stadio Pergolo è legato al finanziamento del terzo lotto il cui progetto di fattibilità è stato sottoposto al vaglio del commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. Per questo da Palazzo Ducale auspicano che il governo possa finanziare quest'opera importante non solo per la città ma per tutto il territorio ionico.